Per me è un'occasione unica giocare in questo stadio, lo Stadio San Paolo, che rappresenta la squadra di questa città, una città meravigliosa. Siamo qui non per vincere, ma per divertirci, per vivere questa bella emozione, questa bella esperienza, quindi cerchiamo di viverla al meglio, con la correttezza, con il rispetto, ok? Siamo qui non per vincere, ma non solo per me, per convincersi meglio con altri oratori, per stare con il cielo. Una partita fantastica, il lato è già trascoltano, sanno giocare, meglio! E' un'emozione sale, vogliamo che vinciamo 4-3, per me è una passione giocare, perché mi sbazia molto il punto. Indescribile!